Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e il videomaking. Ecco 10 errori da evitare quando scattiamo le nostre foto. Numero 1, non sei abbastanza vicino. Questo consiglio arriva da uno dei miei fotografi preferiti, Robert Capa. Una volta egli disse, se le tue fotografie non sono abbastanza belle, non sei abbastanza vicino. Scattare da vicino, magari con un grandangolo, immergerà letteralmente nella scena chi vedrà le tue foto. Per cui avvicinati con un grandangolo e scatta. Numero 2, troppo HDR. Questa è una cosa che purtroppo noto sempre di più. Sempre di più vedo delle foto con un HDR portato all'estremo, usato senza consapevolezza, con colori troppo saturati e aloni terribili. Per carità, può essere una scelta artistica, ma tutto c'è un limite. Con l'HDR secondo me vale la solita regola del less is more. Poco HDR darà molto più valore alle tue foto. Numero 3, colori troppo forti. Questa è una cosa che è successa anche a me quando ero agli inizi. Mi capitava soprattutto quando fotografavo i tramonti e in post produzione pompavo a bomba la saturazione, perché volevo colori forti e vividi. E il risultato erano delle foto che all'epoca mi piacevano un sacco, ma che se le rivedo adesso mi viene da ridere, anzi da piangere. Per cui ragazzi, va bene esaltare i colori di un'immagine, ma anche qui con criterio. Numero 4, la messa a fuoco. Altro aspetto cui chi è agli inizi non fa molto caso. Non avete idea di quante volte molte persone mi fanno vedere una foto della quale vanno orgogliosi e quando io gli faccio notare che il soggetto di quella foto è fuori fuoco, molti mi rispondono ah non l'avevo notato. La messa a fuoco è fondamentale ragazzi, perché con essa possiamo convogliare lo sguardo di chi osserva la foto all'interno della foto. Per cui cerchiamo di curarla al massimo. Numero 5, composizione. Saper comporre bene una foto secondo me è un'arte. Un'arte innata? Sicuramente sì. Impossibile da sviluppare? Non credo. Il consiglio che mi sento di darvi per allenare il vostro occhio fotografico è quello di vedere tanti film e anche di vedere tanti dipinti, tanti quadri. Perché film e dipinti secondo me possono essere di grande ispirazione per affinare la nostra arte nel comporre un'inquadratura. Numero 6, lo sfondo. I principianti spesso e volentieri non fanno quasi mai caso allo sfondo dietro al soggetto che fotografano. Magari scattano un bel ritratto ma ecco che sullo sfondo compare un cestino della spazzatura oppure un palo che sembra uscire dalla testa del soggetto. Per cui curate lo sfondo e vi assicuro che migliorerete già di tanto le vostre foto. Numero 7, troppe cose. Non inserire troppi elementi nelle tue foto. In fotografia less is more. Per cui concentrati su pochi elementi e valorizzali al meglio. Numero 8, il punto di vista. Se la smetti di fotografare solo ed esclusivamente in piedi dal tuo solito punto di vista e provi anche solo a scattare una foto inginocchiandoti hai già portato la tua fotografia a un livello successivo. Ma fai una prova anche adesso senza la fotocamera. Guarda il mondo da un punto di vista differente. Inginocchiati, sdraiati per terra e tutto ti sembrerà nuovo. Numero 9, orizzonte storto. Spesso e volentieri mi capita di vedere delle foto realizzate tutto sommato molto bene ma che poi hanno l'orizzonte esatto così storto. Non so se questa possa essere o meno una scelta artistica ma una foto con l'orizzonte storto è una delle prime cose che fa capire che tu sei un principiante, un dilettante. Dai su, basta così poco per correggerlo. Numero 10, il flash incorporato. Hai presente il flash incorporato? Dimenticalo. Non c'è niente di più amatoriale di quelle foto tipiche delle vacanze con i volti sparaflesciati da quest'affare qua. Prova piuttosto a utilizzare un flash esterno. Infatti più la sorgente luminosa che illumina il tuo soggetto è distante dalla fotocamera, migliori saranno i risultati. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Io spero che sia stato interessante. Come al solito vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime pillole di fotografia. Ciao a tutti!